Continua ad alimentarsi il dibattito, molto datato per la verità, sull'accorpamento della riserva naturale pescara. In comune c'è un progetto in tal senso, ma il punto è come evitare l'abbattimento di 58 alberi secolari, querce e pini. Anche oggi la Commissione Mobilità e Lavori Pubblici, presedute rispettivamente da Armando Foschi e Massimo Pastore, hanno effettuato un nuovo sopralluogo con i tecnici comunali, proprio per studiare alcune modifiche al piano in modo da evitare l'abbattimento degli alberi. A dire la verità un progetto alternativo esiste già, un gruppo di lavoro formato da professionisti e ambientalisti ha studiato appunto un'alternativa. Sentiamo. La proposta che noi facciamo è di delocalizzare, cioè di spostare completamente la strada a scorrimento che secondo l'ipotesi del comune di Pescara passa a fianco della Pinete, cioè su via Pantini. Noi proponiamo di spostarla ai piedi della collina in maniera che questa strada non sia un detrattore ambientale. Noi abbiamo fatto un gruppo di lavoro per arrivare a questa soluzione che è stato indicato dal circolo di Vittorio e del PT che ci ha chiesto, diciamo così, di organizzare un gruppo di esperti interdisciplinari che potesse dare una risposta e noi questa è la risposta che abbiamo dato e che si vede nella mappa che vi abbiamo fatto vedere prima. Questa vostra alternativa comporterebbe dei costi per l'acquisizione magari dei terreni? Può comportare dei costi di acquisizione dei terreni ma questi terreni oggettivamente verrebbero talmente valorizzati rispetto alla situazione attuale che forse una trattativa con i privati è possibile. Sembra che ci sia disponibilità del comune a parlare di queste cose, noi siamo contenti di questo, se possiamo evitare in tutti i modi di abbattere 58, sembra che ne sia 58 tra querce secolari e pini secolari, noi siamo molto contenti. Si ha detto per inciso, io penso che non esista un ambientalismo di destra, un ambientalismo di sinistra e diamo merito a chi fa le cose sul campo perché altrimenti non ci capiamo più. Per cui voglio dire se c'è disponibilità, la cittadinanza si è dichiarata a favore, l'amministrazione a favore, le proposte si vedano sul campo e si scelga la situazione migliore.